Attore, regista, doppiatore, pensate anche architetto, è a teatro in questi giorni con Hollywood Burger, Pino Quartullo! Cinema, un'identica passione, cinema, un vento di illusione, Piacere, molto lieto, ci diamo nei polsi! Non lo so, io non so più cosa fare, perché io darei pure la mano, però poi sembra maleducato, se non dai la mano... Che c'è scritto su quella cravatta? 32 dicembre! Perché? Non ho scritto io, comprate che l'ha già fatta così! E' carino ora, un giorno immaginario! Ti piacciono un po' le follie? Come un po' l'anno bisestile, no? C'è il 29 febbraio, c'è anche il 32 dicembre! La canzone che abbiamo appena ascoltato tu la cantavi con Monica Vitti! Esatto! Di cui sei amico! Certo, sono stato allievo in Accademia e poi dopo l'Accademia lei ha fatto una trasmissione televisiva, passione mia, e io ho portato un po' un gruppo di attori dell'Accademia a miei amici, e abbiamo fatto con lei questa trasmissione in cui facciamo una sitcom con lei... Ti va di rivederla insieme, un pezzetto? Magari! Dai, vediamola! Ecco, con le moglie! Adesso vi presento i miei primi allievi, eccoli qui! Questi ragazzi hanno fermato una compagnia da due anni che si chiama La Festa Mobile! Dino De Laurentiis! Dino! Emo sta a Los Angeles! Dino! Mmm, se ne chiuda l'Italia, e vengo fino a America e facciamo business! Dino! Un proverbio! Io lo faccio, lo aggetti! Sì, buonasera! No, scusate, facciamogli vedere il balletto come facevano loro, sennò come fai a indovinare? Sì, sì, dai, io faccio Zedto! Vai, vai così! Beh, fa schifo, eh! Proprio schifo! Zedto non faceva così! E faceva così! Perché? Come faceva? Cioè faceva, faceva, adesso non me lo ricordo, ma faceva una cosa come... Va bene, però... Fai! C'è tutto, può essere... C'è pure una capra, ma un cavallo non è questo! Certo, quelli erano in due, e davanti, a quanto stiamo? 612! Campa, cavallo! Vinto questo cavallo, basta! Che ricordo hai di lei? Beh, lei è stata una persona che subito in accademia ci ha considerato come dei professionisti, e ci ha insegnato una cosa fondamentale, ha detto, guardate che io, quando ho cominciato, non volevano farmi fare teatro perché ho questa voce particolare... che poi è stato il suo tratto distintivo. Esatto, ha detto quindi, voi, oltre a imparare la dizione, ad essere tecnicamente a posto, dovete anche scoprire quali sono i vostri difetti, le vostre caratteristiche, e quindi io subito ho capito che poi, anche perché ho avuto un altro grande maestro che è Gigi Proietti, ho capito che devo un po' ironizzare sulla mia fisicità, e quindi prendermi in giro, e mostrare le mie debolezze, le mie insicurezze, e quindi su questo ho lavorato, e questo è un po' il mio clown, come si dice in gergo. Che poi è una regola anche utile per la vita, no? Che non bisogna, alla fine, tutto questo è molto vero. Dicevo architetto perché tuo papà, che ti voleva architetto... Era ingegnere, ma, diciamo, lui voleva... Tu ti sei laureato in architettura? Sì, 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 ho fatto un progetto di un teatro, però, come detto, si laurea... Beh, lui era ingegnere, pensava che scherzassi quando dicevo che voleva fare l'attore, anche perché era molto grosso, era ciccione, e quindi pensavano, insomma, che era una follia giovanile, che poi sarebbe passata, e invece quando mi mancavano pochi esami, per finire l'architettura, me ne mancavano cinque, ho provato a fare l'esame al laboratorio di proietti, l'esame in accademia, e mi hanno preso sia al laboratorio che in accademia. Quindi quando sono arrivati i telegrammi mi ha detto, bene, da adesso in poi ti mantieni da solo a Roma. Mi ha detto, come faccio? Mi ha detto, ma papà, ti giuro che continuerò a studiare. Quindi io facevo accademia, laboratorio, e ho fatto architettura, e ho finito. Ecco, e anche con proietti ti vediamo in un bel medley, come si dice. Ah, bene. Allora, Pino, tu che dici che c'è adesso? Come vedete, volevo presentare ai telespettatori la voce del telefono, loro non l'avevano visto, ovviamente. Ecco qua. Perché come potete vedere noi facciamo tutto dar vivo, insomma tutto così, un po' fradino, ecco si sente, lo vedi? Adesso lui sta rinunciando alla voce perché questa qui è porta, porta, lui è... Al bolognese che si mangia bene. Scusi, il ristorante è bolognese? Ma non si sente dall'addizione? Il signor Gelli. Il signor Gelli, ma è stato qui per tanto tempo, hanno mangiato tanti tortellini, strozza preti. Ciao sorelli, passavo di qua e ti ho portato un po' di supplì, così non salto il pranzo. Scusi eh, sono il fratello di Sonia. Ah, piacere, Bruno Palmieri. Palmieri? Giornalista, sì. Ah, che onore. Se non ti dispiace, grazie, vedi su prima, fammi lavorare. Scusate, vado subito, ci vediamo più tardi. Arrivederci. Peraltro di Gigi, tu come tutti gli allievi hai un ricordo umano molto potente, so che vi sentivate, che lo avevi sentito anche poco prima di avere la orribile notizia della... Sì, lui è stato anche il mio testimone di nozio, penso a quanto eravamo poi. Pochi giorni prima, purtroppo, che se ne andasse, mi ha chiamato, perché ci sentivamo ogni tanto, mi stavo facendo la spesa, mi ha detto, senti, ho avuto un'idea per fare una parodia di Cime Tempestose in Pugliese. Come? Cime Drap Tempestose, voleva fare. Quindi ci siamo messi a ridere con le lacrime mentre facevamo... Quindi fino agli ultimi giorni è stato sempre un bambino che si divertiva, un grande professionista, e sempre fantasioso, sempre alla ricerca di cose nuove, di cose divertenti. E quando andavi a cena con lui ti raccontava mille film, mille storie che avrebbe voluto fare. Noi sapevamo che poi non l'avrebbe fatta perché ce ne aveva troppe, però era bello ascoltarlo. E poi, fino all'alba, ti teneva in piedi con i suoi racconti, con le barzellette, con, appunto, queste idee pazzesche. Ma dimmene una, tipo, a parte Cime Drapa Tempestose. Voleva fare l'Otello e Iago doveva essere, lui doveva essere un giocatore di calcio e Iago era il massaggiatore del giocatore di calcio. Iago è, spieghiamo perché non lo sappia, il cattivo, quello che si inventa, il fa, il inventa. Il tradimento che non esiste. Il demona abbia radito l'Otello. Io volevo abbiettarlo oggi come un calciatore e un massaggiatore. Ma, ti dico, ma ha tantissime idee straordinarie. Chissà che qualcuno prima o poi non le riprenda tutte le mani. Dovresti farlo, magari. Io ho scritto, penso a un film, ho scritto il soggetto di Toto. Sai che c'è Toto che si è liquefatto nella sauna, no? Quel personaggio che lui fa, famosissimo, con l'asciugamano, che si è liquefatto mentre faceva la sauna. Io ho scritto il soggetto per la storia vera di lui, che pensavano che questo Toto si fosse liquefatto nella sauna, invece l'avevano portato via con gli asciugamani e quindi... Però raccoglievano il liquido, lo portavano alla madre e gli dicevano, guarda, ecco qua. Era una cosa un po' folle. Ma che meraviglia. Senti, poi nel frattempo ti sei sposato, appunto, mi hai detto. Hai una figlia con Elena Sofia Ricci. Certo. Anche lei vuole fare l'attrice? Pare di sì, pare che ormai abbia deciso. Sei contento? Dopo varie possibilità, ormai sì, ha deciso che fare l'attrice e ha già fatto delle cose. Ha già fatto... L'avete chiamata Emma, come un bellissimo romanzo di Jane Auster, non mi hai citato le bronchi. Ma anche mia madre e anche la nonna di mia madre. Ah, vedi? Quindi non ci siamo... Inventati nella... Era di famiglia Emma e quindi... Emma ti manda un bel messaggio. Ah, vedi? Surprise! Ciao papà. Allora, io potrei raccontare veramente tantissimi aneddoti su di te. Un'infinità. Io passo le serate a raccontare le nostre storie, a partire dagli animali, perché tanti sanno dei cani, dei gatti, degli uccellini, delle tartarughe, ma pochi sanno delle rane. Non tanti sanno dei nostri petardi nelle scale dei palazzi e tutte le volte che abbiamo rischiato di essere denunciati per questa cosa. Non tanti sanno che quando io ero piccolina non avevi ben capito che la mia età fosse di una bimba e quindi mi portavi a vedere degli spettacoli al teatro, dei film al cinema che erano vietati ai migliori di 18 anni e queste immagini mi hanno traumatizzato a vita. Pochi sanno che il mio primo concerto l'ho fatto con te allo stadio a vedere Madonna, che è una cosa che mi ha cambiato la vita e tu con tutte le tue follie, papà, tutte le tue creazioni e le tue idee mi hai fatto sempre tanto ridere ma mi hai anche reso la persona che sono oggi e ti devo veramente tanto. Grazie. Ti voglio bene. Ciao. Bella Emma. Bella Emma. Ti sei commosso un po', eh? Sì, un pochetto. Perché lei peraltro è bellissima, intelligente, simpatica. Vabbè, anche la madre comunque è molto simpatica, quindi comunque dove prendeva, prendeva bene. Molto carino che tu lo dica perché poi, insomma, lei era una donna straordinaria, era una Sofia Ricci e so che vi siete lasciati in ottimi rapporti. Sì, anche perché ci sta vedendo, quindi è bene. Vienici a trovare, che non è vero. Vedi l'attore, il clown che esce fuori. No, beh, è probabile, no? Che cosa? Che vi stia vedendo? Eh sì, perché no? Stai in tournée, sta a Firenze. No, tipo esce fuori questa cosa divertente che tu dici, hai detto, hai fatto questa battuta, parlo bene di lei perché ci sta vedendo. No, certo, scherzavo. Ma certo. Parlerei bene comunque. Ma certo, dai, lo so che è una battuta da teatro. Siamo una famiglia dal gata che si vuole bene, tant'è che al matrimonio, si può fare. Al nostro matrimonio c'era Proietti, ma c'era anche Elena Sofia, con suo marito, con un'altra figlia, quindi che è una prova anche di apertura, di intelligenza di mia moglie, che è Margherita Romaniello, che è una donna straordinaria e che appunto ha consentito che l'ex venisse al matrimonio, che non è una cosa di tutti. E vabbè, vuol dire che tu stai anche capace di rassicurare per le... Sì. Vuol dire che l'hai intelligente e che anche tu l'hai saputa rassicurare. Certo. Parliamo di Hollywood Burger. Ah, bene. Hollywood Burger la sto portando in scena con Giobbe Covatta, ed è un testo di un autore italiano, e racconta invece di due attori americani che stanno alla mensa di Hollywood, degli studios, che ricorda un po' quel bar che c'è a Cinecittà, non so se tu l'hai sicuramente visto, dove ci sono degli attori che stazionano, che stanno lì, che aspettano di incontrare i registi, sperando in una parte. Ecco, noi abbiamo fatto questi due, abbiamo portato in scena, stiamo portando in scena questa storia, in cui lui nella sua vita è stato sempre tagliato, qualsiasi film abbia fatto, e io invece ho fatto dei ruoli in cui non ero riconoscibile, perché ero l'ominide che tirava all'osso in 2001, di Ossia nello spazio, il pianeta delle scimmie, lo zombie, e anche lo spermatozoo nel film di Woody Allen, tutto quello che avreste voluto sapere stesso. Quindi l'altro diceva, come ti senti? Hai fatto sempre parti pelose, come ci si sente a interpretare uno spermatozoo? Quindi un testo molto divertente. Come ci si sente a interpretare uno spermatozoo? E beh, ci si sente al centro del mondo, al centro dell'esistenza umana, poi non l'ho mai interpretato, ma certo, se dovesse interpretarlo con Woody Allen, sicuramente sarebbe uno spermatozoo molto spiritoso, molto ironico, no? Beh, vi ricordo quello del film, e lui diceva, pronti andiamo, si va! Esatto. Si buttano tutti. Vabbè, e quindi quando sarete in giro ovunque? Sì, saremo a Bologna, al Teatro Duse, andremo a Modena, staremo a Latina questo fine settimana, e poi a Cerco, e poi riprenderemo il prossimo anno, e poi la prossima stagione, speriamo di farlo appare. Andate a teatro, perché è giusto andare a teatro, ricominciare a vivere, riportare la cultura nelle nostre anime, perché è un vero nutrimento. Grazie Pino Quarturo per essere stato con noi.